Ho organizzato una sfilata su Rocket League. Ho preso 16 giocatori e li ho fatti competere tra di loro per creare il design di macchina più bello sul gioco. Il risultato? Una sfilata ignorantissima dove ogni player mostrava e flexava la sua macchina nel tentativo di persuadere me ed i giudici. Chi sono i giudici? La chat che tramite un programma poteva dare un voto da 0 a 10 ad ogni outfit. Potete già capire che l'intero evento è stato molto molto ignorante e pieno di colpi di scena. Ah e per rendere il tutto ancora più interessante tra questi 16 giocatori ho preso casualmente alcuni miei iscritti. Quindi se anche tu vuoi partecipare in un futuro video controlla se sei iscritto e se vuoi entrare nel server discord. Verso la fine del video comunque vi darò ulteriori informazioni su come partecipare ai futuri eventi e dalle future sfilate. E vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi state dando, siamo quasi a 50k e ogni giorno poter parlare o comunque interagire con tutti voi in live nei video è fantastico. Ok basta basta iniziamo con l'evento. Perfetto iniziamo col primo ragazzi iniziamo col primo giro. Iniziamo col primo giro ok boys. Bisogna che vi mettete ragazzi tutti sulla linea. Ragazzi è il momento di valutare. È il momento di valutare. Una alla volta. Allora prima vediamo un po' come sono fatte st'auto una alla volta. Ragazzi state fermi però non dovete muovervi. Una alla volta iniziamo a valutare quella di Aleking. Ok Aleking ha una fennec va bene. Quella è ruo. Scusa se ti ho colpito non ti triggerare. Ok c'ha un'aureola bianca molto carina. La fennec è normale non è painted. No la fennec è bianca. È bianca la fennec. Le ruote penso siano bianche anche quelle ragazzi. Come vi sembra st'auto? Com'è secondo voi chat? Voglio subito il vostro. Non datemi il voto per adesso. Ditemi soltanto come secondo voi com'è. Secondo voi com'è. Non è così male ragazzi. O la fai mini ma non la fai bella. Il rosso secondo me rovina un po'. Max. Tocca l'auto di Max. Allora vediamo che ha la diestro ovviamente. Lui vuoi che non abbia la diestro. Ha delle draco painted arancione sono quelle draco. O sono normali? Boh sono delle draco normali. Un'auto molto molto non lo so ragazzi come vi sembra questa. Un'interstellar tutta rossa. Forse l'unico problema può essere che costa poco st'auto. Cioè le draco più ste cose non vale molto. Però com'è. Carina. Ok c'è la gente che sta provando l'auto di Max. Va bene ragazzi. Ok adesso Poppy Corny c'ha l'auto normale. Poppy Corny ha tenuto l'auto normalissima. Proprio plane. come vi sembra questo ragazzi. All'auto del futuro esatto. L'octane normale come vi sembra ragazzi questa qua. Octane normale con le doppie righe con tutte. Uno ha quitato non so perché. Ah no ho andato a aspettare. Ok ho andato a aspettare. Bella. Ok schifo. Non lo so ragazzi come vi sembra. Bellissima. Questa è un'octane normalissima. C'è proprio l'auto di viso sopra. Stai fermo un attimo voglio vedere le ruote. Poppy fammi vedere le ruote. Vediamo un attimo che sono le ruote. Ok le ruote sono anche loro painted azzurre. tipo una cosa che gira. Eh non è male. Non è male ragazzi. Non è male. Non è così male. Si vede l'auto vero? Sì sì si vede. Si vede. Perfetto. Non è così male. Prossimo invece è quello di Beso. Ok abbiamo l'auto di Beso. Vediamo com'è. C'ha le cristiano nere. Stai fermo Beso. C'ha l'auto gialla. È tipo quella degli sports mi sembra questa. Il paint o degli sports o quella del rugby. Non sono sicuro. L'aureola nera. Va bene. Ragazzi è il momento delle votazioni direi. Iniziamo da Poppy Corny allora. Poppy Corny tiene l'auto ferma. Ok ragazzi è il momento di votare l'auto di Poppy Corny. Dovete scrivere in chat ragazzi il voto. Scrivete il voto da 1 a 10 dell'auto di Poppy Corny. Andiamo. Faccio la video di lato. Gira un po'. Bravo. Stanno votando ragazzi. Basta che scrivete in chat. Basta che scrivete in chat il voto della macchina. Dovete votare da 0 a 10 ragazzi. Da 0 a 10. E una volta che avete votato non potete aggiungere un altro voto. Sappiatelo. C'è soltanto un voto. Eh dai. Non è così male. Non è così male. Un 6 dalla chat è molto molto buono. Un 6 dalla chat. 6.1. Quindi Poppy Corny 6,1. Me lo scrivo. Perfetto. Ora entra Aleking. Va bene. Poppy Corny esce. Aleking mettiti pure lì davanti. Perfetto. Attendo perfetto. Ragazzi potete votare. Votate l'auto di Aleking adesso. Questa Fennec. C'è rossa e blu. Ci sono i due colori. C'è le ruote bianche che non sono male. Non è male. Votate pure ragazzi. Votate pure. Quanto abbiamo per adesso di media? Abbiamo una vita di 4,9 la media. di attenzione molto bassa. Media di 4,9. Aleking qua si sta rovinando qua ragazzi. Media di 4,9 è poco. È molto poco. 5,1 si sta un po' alzando. Ok ragazzi potete votare una volta a testa. Mi raccomando. Sappiatelo. Cioè anche se lo spammate 50 volte non ve lo conta. Quindi è inutile. Ok 5,1. Dai. Lasciamo 5,1. Tanto più gente vota meno cambia il voto alla fine. Meno varia. 5,2. Chiudiamo il voto a 5,2. Fatemelo scrivere. Perfetto. Arrivata l'auto di Max 3 ragazzi. Fatemi partire il voto adesso. È il momento di votare l'auto di Max 3 adesso. Ok. Potete votare ragazzi. Potete votare l'auto di Max 3. Potete votare l'auto di Max 3. Certo Gabbo. Te forse ti ho già anche scritto. Comunque dopo vediamo. Potete votare ragazzi. Votate bene. Max è moderatore. Vi banna se votate basso. Potete votare quello che volete ragazzi. Da 0 a 10. Da 0 a 10. Vediamo un po'. Ha un interstellar. Un bel paio di draco devo dirlo. Però non ha un areola. Non ha un topper. Forse è quello che pecca. Quanto è di voto adesso? C'è un 6,4. Ragazzi sappiamo che la chat è molto molto critica ragazzi. 6,7. Ok. 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 6,7 non è male. Non è male per nulla ragazzi. Non è male. 6,7 è tanto. È tantissimo. Posso dirlo. È tantissimo. 6,6. Va bene. Sei fermato. 6,6. Adesso tocca a Riscarzo. Vieni qua a Riscarzo. Prossimo. Perfetto ragazzi. Potete votare l'auto di Riscarzo adesso. Di Erbeso anzi. Potete votarla ragazzi. Questa octane gialla. Un laureola nera e cristiano. Tanta roba. Tanta roba. Potete votare ragazzi. Fatemi provare una cosa. Fammi andare al spectator. Allora ragazzi. Potete votare. Ti sto guardando l'auto con la modalità spettatore. Potete votare. No. Non c'è meno 10. Meno 10 non c'è. Quanto siamo? 8,3. Madonna ragazzi. Altissimo. 8,3 è un bordello. Ma perché è così alto? Madonna. Tantissimo. Questa è l'auto ragazzi. Molto bella. Si abbina da dio con il giallo. È vero ragazzi. Questo è assolutamente vero. Assolutamente vero. Poi comunque alla fine staremo anche in vocale con loro. Quindi vedremo. Riscarzo con il suo 7,6 si porta a casa. Un puntaggio molto alto. Ok ragazzi. È il momento di dire i voti. Allora. Ok. Allora. Max ha preso il voto 6,6. Quindi buono Max. Poppy Corny 6,1. Ok. Aleking 5,2. E Derscarzo 7,6 ragazzi. Quindi per adesso. I due che potrebbero passarla. Perché non è ancora finita ragazzi in realtà. Per adesso passare la sarebbero Max e Derbeso. I due che hanno preso il voto più alto. Però manca il mio voto. Manca il mio voto che potrebbe ribaltare la situazione ragazzi. Però non so se la ribalterà. Perché devo dire. Allora. Va bene i meme. C'è Max che c'ha sempre sta a destra. Che lo sapete se mi seguite nelle live. Che io la odio la a destra. Quindi. Va bene. Lo so. È un meme più che altro. Però io non penso che cambierò nulla. Perché. Onestamente non mi piacciono molto ste auto due al centro. Ste due macchine. Non hanno abbastanza roba. Sono troppo semplici. Non hanno abbastanza cose. Va bene l'aureola bianca. Va bene questa mimetica qua. Però non hanno abbastanza cose. Quindi penso che lascerò così com'è. Passano il turno quindi Max 3 e Derbeso. Ovvero Erscarzo. Ok. Buono. Buono. Non c'è male. Non c'è male. Non c'è male. Quattro ristoranti. Esattamente. Quattro macchine. La stessa cosa. Adesso è il momento di andare al prossimo match ragazzi. Iniziamo a guardare le auto ragazzi. Iniziamo a guardare le auto. Firestorm. Vediamo l'auto di Firestorm. Molto carina. Ragazzi. Molto carina. È l'auto del diavolo questa. C'ha. La mimetica penso sia. Non è la Firegod. Mi sa. È la Heatwave. Penso. Non sono sicuro. Boh. È una mimetica molto carina. Devo dirlo. Le ruote sulle Pirros. Mi sembra. Non sono sicuro neanche di questo nome. Molto carina sta mimetica. Mi piace molto. Guarda le corna. Poi proprio. L'auto. Non di di. Di satan. Di. Del diavolo. Molto carina. Molto carina. Prossima. C'è quella di Baby Koala. Che c'ha una cacciatrice. Va bene. Molto carina. E c'ha il gattino che si muove. Che scodinze. La carina questa. Carina. Molto minima. Molto semplice. Le ruote neanche. Sono molto. Sono molto scegliere anche le auto. Perfetto. Entrata. Zikefrost. Mettiti in fila. Bravo. Zikefrost. Ok. Molto carina. Molto carina anche questa. Abbiamo l'auto di Ladro. Che c'ha l'auto. Del calcio. Questa è l'auto. Del calcio. Direi. C'ha la pallina qua. Che fa da. Che fa un po' capire. Qual è sta macchina. Qual è del calcio. Dello stadio. Il verde. Che sembra. Praticamente. Quello di un campo. Dell'erba sintetica. Molto carina. I famosi gatti che fanno male. È un cane o un gatto questo ragazzi? Scusate. Sì. È un cane o un gatto? No. È un gatto. Scusate. È un gatto. Ok. Zikefrost invece. C'ha la bollicina. Molto originale. Non la vedo spesso. Sta mimetica. È sparito. È sparito. È sparito. È sparito. È sparito un... Ma? È sparito. È sparito. Dov'è finito? Ok. È tornato. È tornato. Ok. C'ha la bollicina. Che non si vede molto. Devo dirlo. C'ha queste zomba painted. Mi sembra. Azzurre. Penso. Non lo so. Molto carina anche questa. Devo dirlo. E l'aureola rosa. Che l'aureola rosa. Io c'ho un attaccamento molto molto sentimentale. Quindi molto carina. Ok ragazzi. È il momento di votare direi. Il momento di votare. Ok. Sono aperte le votazioni ragazzi per la Fire God di Firestorm. Per questa macchina ragazzi. Potete votare. Faccio le cinematiche. Io intanto giro intorno così. Guarda che tu stai fermo. Vedo voti molto altri ragazzi. Vedo voti molto molto alti. Il che è strano. Raramente si vede una chat con così tanta gente che vota alto. Però devo dire che la macchina è bella. La macchina è bella. 6,3. Uh sta scendendo adesso. Sta scendendo. No ragazzi. I voti è soltanto un numero. Non potete metterle virgole. Il voto è soltanto un numero. Dai. 6,4 non è male. Sappilo. Non è male. Tipo se uno la sta usando si vede così. Forse sono un po' ingombranti le corna. Questo è vero. Forse le corna. Sono quelle che possono dare un po' più di fastidio. Però non è male. Non è male. Magari la messi giusto per terminare il set. Per farlo star tutto bene. Ok. Direi che va bene ragazzi. Direi che va bene. Quanto ha? 6,7 di voto. Molto molto alto. Buono. Buono. Complimenti. Fatto. Ok. Baby Koala. Momento di votare l'auto di Baby Koala. Potete votare. Votate ragazzi. Votate. C'è già solo un 2, uno 0, un 5, un 8. Ragazzi. Voti molto bassi. 3,8. Baby Koala. Mi sa che. Che vola. Sta prendendo voti molto molto bassi. Guarda quanto cattiveria. 4,4. Che odio. Oddio. È sparita l'auto. Eh vabbè ragazzi. Chiediamo qua le votazioni. Comunque 4,7 per Baby Koala. Molto molto basso. Devo dire. Molto molto basso. Devo dire che la sua auto non era un gran che Baby Koala. Non piaceva neanche molto a me. Senza offesa. Prossimo. Prossimo. Tanto poi c'è il mio voto che potrebbe ribaltare la situazione. Andiamo di Zig e Frost. Vai. Zig e Frost. Votate pure ragazzi. Votate per questa macchina. Oh. I voti sono già belli più alti eh. Da 0 a 10 ragazzi. Da 0 a 10. Da 0 a 10. La chat decide con queste bollicine. La chat decide. Sembra l'auto del sapone. Sembra che fa la pubblicità delle saponette. Non so se mi spiego soltanto a me da sta impressione con le bollicine e tutte. Ora ho raggiunto il 6. Prossimo. È un play. Raul. Quindi l'ha copiata addirittura a Zig e Frost. Va bene. Va bene. Lo terrò. Ne terrò contro. Zig e Frost 6. Va bene. E ora tocca al ladro Twitch. Ladro Twitch. Vieni qua raggiuntivamente. È la peggiore secondo me. Attenzione. Quanta cattiveria. Quanta cattiveria. 4 sta prendendo. È carina finalizzazione un po' meno. È intelligente ma non si applica. Eccolo qua. Voti bassissimi. Voto proprio bassissimi. Allora. Mettetevi tutti in fila ragazzi che vi do le votazioni. Firestorm si prende. Il voto di 6,7 è il voto più alto del girone. Quindi complimenti a Firestorm. Andiamo poi. Baby Koala con un 4,7. Ladro Twitch con 4,2. E Zai Zikefer con un 6. Allora. Io devo dire che ho dato delle mie votazioni prima di iniziare. Ho dato delle mie votazioni alle macchine. Ho dato a quella di Firestorm. Ho dato un 7. Perché mi è piaciuta tantissimo. È molto molto originale come sta a tema. Ho dato anche un voto. È molto verino. Gli ho dato un 7. Quindi direi che Firestorm si conferma il passaggio del girone. Quindi scriviamo qua Firestorm. Passato. A Baby Koala devo dire che avevo dato un 6. Perché l'auto è carina. Con la cacciatrice ha sempre il suo stile. Però quel gattino lì non mi piaceva. C'è quella scimmia. Questo gatto qua. Non mi piace. Non ci sta bene secondo me. Ho dato soltanto un 6. Che comunque con il 4,7 arriva ad una media comunque di 5. Di 5,5. Quindi comunque non passa. Perché c'è Zike con la sua macchina. Zikefrost che prende un 6. Quindi passa Zike e l'auto Twitch viene eliminato. Quindi quelli che sono passati ragazzi sono Zikefrost e Firestorm. Complimenti a loro. Ok. Iniziamo dai sfiori. Iniziamo dai sfiori. Allora lui si è messo la macchina gialla. Vedendo che prima la gente, molti hanno votato per la macchina di dire scarso. Si è messo anche lui l'auto gialla. Una mossa furba. Anzi è oro direi. Con queste ruote anche qua painted gialle. Non lo so. È un po' minimale. Però non è male ragazzi. Non è male. Non so. Andiamo a vedere l'auto di Spiki. Che Spiki è sempre l'auto di Shazam lui. Quindi auto tutta rossa con i contorni neri. E queste ruote di Shazam tutte con l'elettricità. Che è molto carina. Spiki prova a fare il boost. Che se non sbaglio dovrebbe avere anche il boost a tema. Se non sbaglio dovrebbe avere il boost giusto. Esatto. C'è il boost giallo a tema. A posto. Dai non è male neanche quella di Spiki. Va bene. Prossima è quella di GK Peppe. Che ha la macchina. Ok. È molto carina. Allora. Eh ragà. Ragà. Scusate. GK Peppe. Che ci fa vedere la fennec bianca. Le zumba bianche. Tutto. Non lo so ragazzi. Sta auto come vi sembra? Come vi sembra questa macchina? Eh? Come vi sembra? Zumba bianca e fennec bianca? Questa vale tanto. C'è da dirlo. Troppa roba. Non è vero ragazzi. Non ho detto che valga troppo. Sta. È un bel flex. Un ricorno. Anche lui ha fatto la mossa furba. E si è messa anche lui l'auto gialla con i cosi neri. Che stanno ben intonati. Guarda qua le cristiano bianche. Le cristiano titano white. Buone. O forse non sono cristiano. No. Non lo so. Molto carina anche questo. Ok ragazzi. È il momento di votare. Direi. Prima scrivo io i miei voti. Così. Ok ragazzi. Apriamo le votazioni. Un secondo che apro le video azioni. Ok. Iniziamo dall'auto ragazzi di unicorno psicobatico. Potete votare. Ah. Comunque ragazzi. Vorrei dire che la dominus è bianca. Potete votare l'auto di unicorno psicobatico. Guardate qua l'auto. È molto che... A me piace ragazzi. Onestamente. Vedo molta gente che dà voti bassi. Però dai ragazzi. C'è la dominus bianca. C'è le cristiano bianche. C'è la mimetica gialla e nera. Degli RLCS. Perché questo è il simbolo di RLCS. Ok. Chi dà le votazioni direi. Chi dà le votazioni con un 6. Attenzione. Un 6. Molto molto basso. Mi sarei aspettato di più da unicorno. Però 6. Va bene. Adesso andiamo a votare l'auto di Peppe. Quindi vieni qua Peppe. Può dare il 10. Sì ragazzi. Il voto è da 0 a 10. Da 0 a 10. Votate. Votate anche voi da casa. Mi raccomando. Quelli che guardano il video quando lo caricherò. Potete votare e vedere quanto uscirà secondo voi. Potete far già le predictions. Devo dire che a me non piace molto di sta macchina. Questi occhietti qua. Questi occhietti qua sono un po'... Forse per i meme. Non lo so. Però ragazzi. Dominus Bianca. Fennec Bianca. Zumba Bianca. Wow. Tanta roba. Non guardate dietro ragazzi. Non guardate quello che succede dietro. Stai fermo con l'auto. Vi faccio vedere anche quanto è costata l'auto in totale ragazzi. È costata 5 centesimi l'auto in totale. Guardate qua. 5 centesimi è costata. C'è scritto qua. È un easter egg dell'auto. 5 centesimi. Ok. Chiudiamo le votazioni con un bel 6,7. Ragazzi siete bassissimi con i voti. Siete infamissimi. Jkpeppe 6,7. Minu. Dov'è Minu? Ok. Potete votare ragazzi. Potete votare l'auto di Fiori adesso. Di Minu. Votatela pure. Quella di Ice Fury. Però sta andando voti molto bassi devo dire. Guardate qua l'auto. Ve la giro intorno. Le ruote troppo abbassano di molto. Esatto. Le ruote avrebbe potuto prendersi delle 10 oro o qualcosa. L'auto secondo me voleva farla oro. Però le ruote la trasformano più in un'auto gialla che oro. Ok. Votazione quanto? Votazione 4,4. Attenzione ragazzi. Lo stanno uccidendo a Minu. Voti bassissimi. Cattivissimi. 4,2 addirittura? 4,2? No lascio 4,4 che è quanto ho visto prima. Ultima persona adesso ragazzi è Spighi. Auto di Spighi che ha l'auto di Shazam. Perfetto. Eccola qua. Potete votare ragazzi. Le votazioni sono aperte? Sì. Sono aperte. Potete pure votare ragazzi. Allora. Il bello di questa macchina secondo me è guardate l'effetto fumetto. Guardate che carino l'effetto fumetto di questa macchina. Tipo c'è sta griglia che rimane fissa con la tua visuale. È molto carino l'effetto fumetto. C'è tipo quello di Borderlands. Mi sa molto di Borderlands. Le ruote secondo me sono quelle di Shazam ovviamente. Sono quelle di Shazam. Però non mi piacciono molto le ruote devo dirlo. Però mi piace la Decal. La Decal è molto carina. È carina la Decal. Sì sì sì. Potete votare ragazzi. Potete pure votare che le votazioni sono aperte. 6,8 ragazzi altissimi siete. Molto alti. Buono buono buono. Ci sta ci sta ci sta. Comunque quella mi mette che mi distrugge gli occhi ma è molto carina. È vero. Ti spacca un po' gli occhi però è carina. Quello sì. Quello sì. Chiudiamo le votazioni con un 6,4. Attenzione. Allora. Momento del resoconto finale ragazzi. Resoconto finale. Allora. Unicorno psicopatico. Iniziamo da lui. Con le votazioni si è preso un 6. Molto clean. Molto clean. E io devo dire gli avevo dato un 7. Quindi il voto medio alla fine è 6,5. Jkpeppe invece si è preso un bel 6,7. E io gli avevo dato un 8. Perché mi piaceva molto la Fennec bianca. Devo dirlo. La Fennec bianca era tanta tanta roba. La chat però gli ha dato 6,7. Quindi il voto finale è 7,5 la media. Invece Minu si è preso un brutto 4,4 i sfiori. L'auto questa qua. Come vedete la Octane. Si è preso un voto molto basso. Si è preso 4,4. Però io gli avevo dato 7. Perché a me l'auto non dispiaceva. A parte per le ruote che appunto per quello che gli ho dato 7 non mi dispiaceva. Quindi 7 più 4,4 che approssimiamo a 4. 7 più 4 fa matematica. 11 è un 5,5 praticamente. Che quindi lo tiene abbastanza basso. 5,5. E Spiki invece ha preso dalla chat 6,4. Spiki è l'auto rossa. E io gli ho dato un 7. Perché mi piaceva. Quindi il voto rimane sul 6,7. 6,6 alla fine. Rimane sul 6,5 alla fine. Quindi ragazzi coloro che passano il turno sono quindi Spiki che prende 6,7. E Jkpeppe con la sua bellissima Fennec bianca che ha preso 7,5. Abbiamo ragazzi l'ultimo girone. Abbiamo l'ultimo girone. E poi le auto che sono passate adesso e passate nei gironi precedenti. Vranno messe a sfidarsi tra di loro con un'altra votazione da parte della chat. Allora prima auto è quella di Claudio. Vediamo un attimo com'è. C'ha queste ruote che non mi convinco molto. Sono molto molto complesse. Però ci stanno bene devo dirlo. Ci stanno bene con questa mimetica. Che non so quale sia onestamente la mimetica. Non ci sono familiari a questa mimetica. Non so quale sia. Però eccola qua. Gli ucchialini took life. Sempre presenti questi. Eccoli qua. Almagest. Ah ok l'Almagest. È un'auto che secondo me sembra che valga tanto. Ma in realtà vale poco. Perché l'Almagest non penso valga molto. Poi. Freaky. Dovvero dovrebbe essere Dario lui. Questa è l'auto di Dario. Intersella molto minimale devo dire. Quindi azzurro default. Proprio il colorato sul default di Rocket League. Messo insieme ad un blu scuro. Che va sul nero. E poi l'Ipnotic. L'Ipnotic non l'ho vista molto ragazzi. Ha fatto un buon uso dell'Ipnotic. Non l'ho vista molto in questo. In questa sfilata. Li potete già pensare a un vuoto. Tommy. Questa è l'auto di Tommy. Poi mi inghia. Ti sei impegnato per abbinare il blu con il verde. Devi essere proprio stupido. Non lo so. Però a me il blu e verde non piace molto. Non so voi. Ha fatto un abbinamento un po' poco azzeccato. Fatelo dire. Però ovviamente. Poi magari la chat piace. A me onestamente questo abbinamento. Non lo so. Non lo so. Il blu e verde ve lo dirò alla fine. Tigris. Attenzione alla Tigris quel santo. Quel santo è la Tigris. Attenzione. Tigris non l'ho ancora vista in questo tornino. Forse perché è appena uscita. Non ha molta gente piace. Però ecco la Tigris. Queste ruote non so quali siano onestamente. Però queste sono le ruote. Allora ragazzi. È il momento. Iniziamo da Claudio. Come al solito. Quello di prima iniziamo da Claudio. Vi avvio le votazioni. Facciamo 30 secondi di votazione. Quindi. 5, 4, 3, 2, 1. 30 secondi di votazione ragazzi. Potete votare. Potete votare. 4,2, 3,9, 4. Attenzione. 4. 4,6. 4,6 sta prendendo. Va bene. Scriviamo 4,6 accanto all'audio di Claudio. 4,6. Abbiamo poi Dario. Partita la votazione. Yes. È partita. Potete votare ragazzi. Potete votare a questa macchina. Lo faccio vedere di lato ovviamente. Così è più carina. Potete votare ragazzi. Votate in chat. Scrivete il numero. Che secondo voi vale a quest'auto da 0 a 10. Mi raccomando. No. Non è male. A me non dispiacciono le Hypnotic. 7,2 ragazzi. Altissime. 7,3 per Dario. Andiamo da Tommy adesso. Andiamo da Tommy. Qua l'auto di Tommy ragazzi. Con il suo verde e blu. Non so cosa aspettarmi. Però eccola qua ragazzi. Potete già votare. Scrivete in chat il voto. Fate i bravi. 9,10. Voti altissimi. Potete votare ragazzi. 6,5. Va bene. Non è male. Non è male 6,5. È buono. 3,2,1. Chiuse la votazione con un 6,4. Attenzione. È buono. Ultima auto ragazzi. È quella di quel santo. Questa qua è l'auto ragazzi. Se volete votare questa. Eccola qua. Madonna. 3,2. Madonna ragazzi. Siete cattivissimi. 3,5. Comunque a quel santo. Quindi si chiude l'abitazione con 3,5. Allora. Vi dico le mie ragazzi. Mettetevi tutti in fila. Che adesso vi dico chi passa. E vi dico i miei risultati finali. A Claudio. Io devo dire che avevo dato un 6. Però la chat gli ha dato un 4,6. Quindi il voto finale alla fine è 5 per Claudio. Quindi c'è un 5. Tommy invece. Io gli ho dato 5 perché non mi piaceva l'auto di Tommy. Per nulla. Ma non piace onestamente. Però la chat gli ha dato 6,4 che è tantissimo 6,4. Quindi si approssima a 5,8 il suo voto. 5,8. Dario invece. Io gli ho dato 7 perché la sua auto è molto carina. Quella di Rikid. Questa qua. Questa qua. È molto carina. Gli ho dato 7. E la chat gli ha dato 7,3. Quindi il voto era più o meno lo stesso. Quindi rimane a 7,2 direi. 7,2. E infine. Per. Cosa stanno facendo ragazzi? Un attimo. L'auto di invece quel santo si è presa un misero 3,5. L'auto di quel santo. Dov'è che è? Sei fermo quel santo? Per favore non muoverti. Ok questa qua. Si è preso un 3,5. E anche io gli avevo dato. No io gli avevo dato 6 ragazzi. Gli avevo dato 6. Quindi facendo la media comunque. Va a 4. Va a 4,8 circa. 4,8. Quindi chi passa il girone alla fine? Lo passano Tommy che si è preso 5,8. E Dario con il suo 7,2. Adesso abbiamo i girone di semifinale. Abbiamo Max, Erscarzo, Spichi e Peppe ragazzi. Che sono quelli dei gironi precedenti. E apriamo subito le votazioni a punti ragazzi. Perché l'avete già visto l'auto dai gironi di prima. Peppe è il primo. Quindi Peppe vieni qua. Vai Peppe. Questo è l'auto ragazzi. Questo è l'auto. C'ha l'auto da ricchi sui. C'ha l'auto con la fennec bianca. Le zumba bianche. 7 la chat. Addirittura 7. 6,8. Ok va bene. Va bene. 7. Molto alto il voto. Adesso si è alzato. Ok. E lui adesso qua sta prendendo 6,7. L'ha lasciato. Quindi chiuderei qua ragazzi le votazioni. 6,7. Buono per Peppe. Scriviamo qua 6,7. Perfetto. Guardate che bella. Guarda Max che minaccia. Se non mi votate alto vi banno. 7. 7,4. Madonna sta auto. Max quanto hai pagato la gente? Ok. 5,6. Si ferma a 5,6. Va bene. Tocca Erscarso. Erscarso dov'è che è? Qua. Ha cambiato il colore? No. Ah. Era questo. Si era questo. Era questo. Ok. 30 secondi. Votate. Su via. Su. Ha cambiato la decada del colore? No la decada è la stessa. Ha cambiato 70 colore. Beso se riesci vai nel team giallo. Vai nel team arancione. Quanto è? 4,6. Cattivissimo. Oddio. Cattivissimo. Va bene. 4,6 per Erscarso. Ovvero Erbeso. Ultimo speaker ragazzi. Ultimo speaker. Spicchi mettiti in linea. Numero da 0 a 10 vi ricordo. Come volete. Avete una votazione a testa per macchina. E scrivete ragazzi. Poi fa la media automaticamente in chat. 4,6. Buono. Buono. Dai. Voti bassissimi ragazzi. Più arriviamo verso il finale più la chat è critica. Più è cattiva. Come volete. 4,8. Vai. 4,8. Chiude. Va bene. 4,8 non è male. Ok ragazzi. Facciamo il resoconto di questo giro. Qua non vale il mio voto. Facciamo. Perché sono i voti di prima alla fine. I voti miei. Quindi non li cambio. Però abbiamo Max. Che si è preso con la sua Dominus del futuro. Un 5,6. Abbiamo il reso. Con questa macchina. Che si è preso 4,6. Spiki 4,8. E Peppe 6,7. Ragazzi. Peppe mi sa che la vince. C'ha un voto altissimo. C'ha le votazioni altissime. Quindi passano il turno. Max. Max. E Peppe. Abbiamo l'ultimo giro. Ragazzi. Poi abbiamo le finali. Ecco qua le macchine ragazzi. Eccole qua. Sono queste qua. Abbiamo due Dominus. Una Fennec. E una Octane. Apriamo subito le votazioni. Non facciamo neanche. Il sondaggio. Apriamo subito le votazioni. Per. Facciamo zig. 30 secondi per votare. Vai. Potete votare in chat. Un numero da 0 a 10 ragazzi. Per le finali ragazzi. Vi dico già. Non mostrerò. Il voto della chat. Lo farò vedere alla fine. Per fare la sorpresa. Alla fine. Quindi per le finali. L'oscuro il voto ovviamente. Però questa è l'auto. Se volete votare. Passate i 30 secondi. Sono passati. Perfetto. Quindi prossimo. Andiamo di Firestorm. Ok. Potete votare ragazzi. Potete votare l'auto di. Di Firestorm. Eccola qua. Quanto è la votazione? Siamo a 5,6. Ragazzi. Cattivissimi. Madonna. Quanto aggressivi per Firestorm? 5,7. Anzi. Va bene. Abbiamo Tommy adesso. Sì c'è Tommy. Tommy. Tieni l'auto così. Ferma. Cioè. Falla scendere normale. Eccola qua. Votate ragazzi. Allora. Le zomba verdi. Sono carine. Devo dirlo. A me però non piace. Il modo in cui l'auto sia blu e verde. Non mi piace il blu e verde. A me non piace per nulla. Però magari la chat piace. Tommy. 6,3. Solidario. Di Rickid. Votate usando la chat. E anche voi da casa che guardate il video. Perché ragazzi ci facciamo il video su YouTube su questo. Sulla sfilata. Potete anche voi ragazzi. Potete scegliere. E provare a indovinare quanto avrà alla fine ogni auto. Quindi. Non so. Scegliete una macchina. Seguitela fino alla fine. Fino alla finale. Poi magari avete indovinato. Chi lo sa. Ipnotic blue normali. C'è una bella dissolver con l'auto normale. Anzi. Ah no ragazzi. L'auto non è normale. Vi faccio vedere che è painted ciano. È painted sky blue questo. Tanta roba il painted sky blue. Molto carino. Questa qua è l'auto ragazzi. 6,9. Attenzione per i meme. 6,9. Va bene. 69. 6,9. Complimenti Dario. Vincono. Questo turno. Mettetevi in riga. Lo vincono. Firestorm purtroppo si è preso soltanto 5,7. Cioè la chat è stata cattivissima. Ve lo dico. La chat è stata proprio cattiva. Firestorm quindi mi spiace. Ma te l'ho eliminato. La chat con te è stata cattivissima. Zicef invece 6,3. E Tommy sono a pari merito. Entrambi con 6,3. Quindi dobbiamo vedere come fare con loro ragazzi. Dobbiamo vedere. Mentre Dario 6,9 passa. Quindi per favore. Fatemi un favore. Dario, Firestorm. Spostatemi. Voglio vedere soltanto Tommy. E Tommy e Zicef vicini. Uno accanto all'altro. Vedete qua. Dobbiamo fare una votazione ragazzi. Dobbiamo fare una votazione. Vedete qua in questo angolo. Dobbiamo fare la votazione tramite. Tramite la chat. Perfetto ragazzi. Potete votare nel sondaggio della chat ragazzi. Tramite la chat direttamente. Potete vederla. Potete vedere il sondaggio. E votare chi secondo voi dovrebbe passare. Qual è l'auto migliore. Votate. E che la percentuale più alta ragazzi alla fine vince. Uh sono molto vicini ragazzi. Sono stra alla pari. Sono stra vicini la votazione. È stra vicina. Attenzione manca pochissimo. Vince il sondaggio Zice. Complimenti a Zice. Zice non so come si dica. Complimenti a Zice che vince il sondaggio. E passa il turno. Quindi GG per Zica prosto. Mi spiace Tommy per te ma ormai sei stato eliminato. Quindi abbiamo la finale ragazzi. Abbiamo le due persone firaniste. Ovvero il signor Dario e il signor Tommy. No non è Tommy scusate è Zica. Scusate ho sbagliato. Finale ragazzi. Abbiamo la finale. Condividete con tutti. Max. Peppe. E infine Dario. Abbiamo tutte le macchine. Abbiamo tutte le macchine. Iniziamo da Max. Max per favore vieni qua. Faccio partire le votazioni ragazzi per questa macchina. Quindi potete votare ragazzi in chat da 0 a 10. Da 0 a 10. Non sapete ancora il voto ragazzi. Non lo sapete ancora. Però votate ragazzi. Non dico nulla io. Avete votato? Va bene. Direi che basta. Fatemi vedere quanto ha preso. Ok. Ha preso un voto preciso. Tocca Peppe adesso. Partite la votazione. Ok. Ci siamo. Votate da 0 a 10. Mi raccomando. 3. 2. 1. Chiuso le votazioni. Va bene. Uh attenzione. Va bene. Va bene. Dario. Prossimo è Dario. Dario vieni. Partite le votazioni per Dario ragazzi. Vi ricordo che c'ha una Dominus. Tutta azzurra. Anche il painted Dominus è sky blue. Cobalto. Ok. Allora è Cobalto. Scusatemi. Scusatemi. Non mi frustate. Non mi frustate. Questa è l'auto. 3. 2. 1. Chiuso le votazioni. Attenzione. Attenzione Dario. Va bene. Scriviamo. Scriviamo. Ice vieni qua. Vai via Dario. Spostati pure. Da 0 a 10 potete votare. Anche lui c'ha la Dominus painted. Anche lui c'ha la Dominus. Questa è painted Cobalto. Verobo. Penso di sì. Boost bianco. Vabbè. Quello non conta. Se ne faremo altre di sfilate in futuro le apriamo a tutti. Vabbè. Comunque. Chiudiamo le votazioni esattamente adesso. Quindi chiude con questo voto. Va bene. Allora. Puoi tornare pure al tuo posto. Mettetevi tutto in riga ragazzi. Che è il momento di annunciare i vincitori. Allora. Allora. Tenete l'auto ferma ragazzi. Mi raccomando. Non muovetela. Che sennò ho un voto in meno. Ok. È il momento di dire le votazioni. Riveliamo anche i nomi. Facciamoli vedere. Allora. Partiamo ragazzi. L'annunciamo. Annunciamo tutto. Annunciamo chi è il vincitore della finale. Della diciamo la prima edizione della sfilata di macchine su Rocket League. Sono carico ragazzi. Sono carico. È il momento di votare. È il momento di votare. Quarto posto facciamo. Va bene. Facciamo al quarto posto. Al quarto posto. Lo dico subito. Maxtre. Quarto posto per te. Hai preso 5,9 come media da tutta la chat. Ti sei preso 5,9. Quindi complimenti maxtre 4,9. Mi spiace. Non vinci nulla. Mi spiace maxtre. Adesso è il momento dei tre rimanenti ragazzi. Tre rimanenti. Peppe. Zizia. Ice Frost. Madonna sto nome. E Diego. Carichi ragazzi. Carichi. Ah no. Io lo chiamo Diego. Ma in realtà è Dario. Scusa. Mi confondo sempre. In realtà è Dario. Vabbè. Dario. Se dico Diego lo intendo Dario. Ok. Uh. Lo dico. Ice Frost. Complimenti. Ma non sei in terza posizione. Non sei ancora in terza posizione. Dario. Neanche tu sei in terza posizione. Perché c'è Peppe. Peppe. Con la sua fennec bianca. E con le sue zomba bianche. Si è conquistato la terza posizione ragazzi. Abbiamo gli ultimi due ragazzi. Abbiamo gli ultimi due. La finale. Tra queste due Dominus. La chat preferisce le Dominus. Predilige le Dominus. Non lo so. Dominus entrambe cobalto. Entrambe painted cobalto. Guardate. Uh. Chi vince? Chi vince il torneo? Torneo. Viene vinto da? Dario. Dario complimenti. Hai vinto la sfilata. Hai vinto. Hai l'auto più bella secondo la chat. Secondo anche me. Complimenti man. Complimenti. Dario se vuoi venire un attimo invocato. locale. Ti trascino. Dario. Buonasera. 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 Complimenti. Hai vinto il torneo. Grazie. Grazie. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questo torneo? Cosa ne pensi? Penso che non me lo aspettavo. Ho detto che avrei vinto il torneo a tutti quanti. Ho detto anche a Max. Sì. Vinciò io il torneo. Non mi aspettavo che avrei vinto. Era già sicuro in fondo. Eri già sicuro che l'avresti vinto. Era già sicuro. Era già sicuro. Complimenti Dario. Complimenti Gigi. Complimenti. Se vuoi salutare YouTube. Dire qualcosa a chi ti segue. A chi ci segue. Vuoi dire qualcosa? Allora. Voglio salutare le persone che mi sono fissi invadire. Cioè un mio amico Mario. Un mio amico di nome Mario. Mario complimenti. Ti saluta. E voglio dirgli una cosa. Digli. La Fennec non è bella quanto la Dominus. Attenzione. La Fennec non è bella quanto la Dominus. Attenzione. Infatti. Ragazzi sono arrivate in finale le due Dominus. E ha vinto alla fine ovviamente una Dominus. Quindi. Complimenti Dario. Gigi. Complimenti. Ragazzi ringrazio a tutti per essere arrivati fino a questa parte del video. Immagino che anche voi. A inizio del video abbiate votato. Avete diciamo seguito con ansia. Una vostra macchina predilet. Per vedere se sarebbe arrivata fino alla fine. Non so se è successo. Se avete scelto Dario fin dall'inizio. Però complimenti. Complimenti. Beh ragazzi. Che dire. Ringrazio a tutti per aver seguito l'intero video. Complimenti se siete arrivati fino a qua. Se ce l'avete fatta. Mezz'ora di video veramente ragazzi. Adesso lo sto editando. E tanta tanta roba. Ringrazio a tutti per averlo visto fino a qua. Se volete partecipare alla sfilata che faremo prossimamente in live. Vi ricordo di entrare nel server Discord. Lì innanzitutto potete trovare gente. Con cui scambiare su Rocket League. Divisa per piattaforme. Con pochi diruffatori. Quindi qualsiasi server dovete avercelo. Se volete scambiare su Rocket League. E lì inoltre annunceremo i prossimi eventi. Tra cui anche la sfilata che faremo per un video su Rocket League. Buona ragazzi. Grazie a tutti per esserci stati. Vino a qua. Bella.